e poi anche gluten free che sempre è un po' simile al vegetariano all'infuori delle farine da usare eccetera ma ormai ho imparato bene come si usano e perciò siamo a posto anche con il gluten free come vegetariano facciamo già le polpette di melanzana e le polpette di pesce che le possiamo fare anche per quelle di gluten free perché invece di usare quel poco di pane grattugiato che si usa, si usa quello senza glutine e perciò è perfetto per loro